ecco stamattina qui c'era una montagna di frasche rovi sono le 5 di pomeriggio le ore 17 finalmente ho finito di bruciare questa robaccia ed ora un po più puliti costone ecco domani mattina mi pulisco io e pischetto ci puliamo quest'angolo ed è fatto poi giù a valle a piantare un po di piante per l'orto di casa e la settimana prossima laggiù nel fondo valle lì vedete quegli olivi sono anche del brigante del sud c'è un rudere romano lì in mezzo al mio terreno e da lunedì andiamo a potare quegli alberi ma lì c'è solo erba sotto e alberi da potare sono veramente stanco oggi voglio scendere giù nella valle a lavarmi poi vado a casa mi faccio una doccia mangio qualcosa che oggi ho mangiato solo la torta di hortensia e domani andiamo giù a piantare pomodori zucchine melenzane e un po di basilico per la casa di pomeriggio giù a potare vedere gli aranci vedete sono montagne di aranci qua si sta in pace c'ho la valle di rimpetto sentite gli uccelli lì sta piovendo sugli aranci vedete c'ho la catena degli aranci qui c'è il sole e lì piove l'ultima opera dei borboni lassù è la strada che doveva collegare la fortezza di gaeta con sora ebbene noi da latina gaeta abbiamo due strade l'appia e la flacca le costruirono più di duemila anni fa i romani in 150 anni di cosiddetta unità d'italia non sono stati capaci di attivare la terza strada doveva essere la pedemontana che doveva collegare terracina al garigliano purtroppo alla val di susa vogliono quella strada ferrata che non serve a nessuno nessuno la vuole qui lavoriamo tutti e non si fa perché lì stanno in piemonte e qui stiamo nel lazio meridionale a casa nord delle due sicilie spettare l'azugastelle spettare l'azugastelle ma spettare l'azugastelle buona 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 ovun Grazie.